Qui c'è gente che sta facendo un business ormai indiscriminato sotto gli occhi di tutti che in qualche modo o va bene a questo governo o questo governo è così tanto incapace da non riuscire a fermarlo che porti problemi nelle nostre città dove ormai ci sono bande di stranieri che si picchiano anche in pieno giorno si aggrediscono dove gli italiani non riescono più a passare o edifici come quello totalmente occupato che era partito con piccole occupazioni, nessuno è intervenuto sono diventate delle grandissime occupazioni che però si risolverò non solamente sgomberando quello ma rimettendo il fondo per i rimpatri, rimandando le persone a casa loro perché spesso anche quelle che commettono reati sono persone che vengono dal Marocco con cui abbiamo l'accordo per poterli rimandare a casa loro Carabue perché scuote la testa?